Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura ci occupiamo della pandemia e dei suoi effetti sulla nostra regione. Sono triplicati i ricoveri per Covid-19 in soli 15 giorni in Abruzzo. Aumentano i positivi ma anche le persone che devono far ricorso alle cure ospedaliere. La situazione, come spiega i nostri microfoni, il dottore Giustino Parruti, primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e componente della task force regionale contro il coronavirus, si fa via via più preoccupante. Bisogna prepararsi ad un autunno che sarà difficile. Sentiamo le sue parole nel servizio di Paolo Renzetti. Dottor Parruti, tornata un po' l'emergenza per quanto riguarda il Covid-19. sono triplicati in due settimane i ricoveri, stanno crescendo i positivi e stanno aumentando anche i ricoverati nelle rianimazioni, nelle terapie intensive, un quadro non proprio positivo. Purtroppo la situazione sta evolvendo in questo senso. Abbiamo sempre più frequentemente pazienti che cominciano ad aggiungere al pronto soccorso con insufficienza respiratoria, un po' come c'è successo nel mese di marzo. Quindi siamo più o meno sui 10-12 casi valutati qui a Pescara al giorno, dei quali invariabilmente una metà esita in ricovero, mentre per gli altri possiamo trovare soluzioni alternative. Certo, è una situazione che ci genera un importante carico organizzativo perché la rapidità con cui sta salendo questa popolazione giustamente chiede una riorganizzazione pronta della disposizione dei servizi, della nostra assistenza e soprattutto ci chiede di avere dei comportamenti molto omogenei perché abbiamo imparato a gestire queste situazioni, sappiamo quanto sia importante la tempestività della terapia giusta quando li incontriamo, quindi è importante non solo un'organizzazione formale ma un'organizzazione sostanziale che garantisca a ciascun malato il meglio delle cure. In questo momento in cui parliamo sono 54, sta arrivando un 55esimo e sono 6-7 e forse dovremmo prendere qualcun altro i malati dei genti in terapia intensiva, quindi diciamo che c'è un aumento piuttosto costante negli ultimi giorni anche dei ricoverati di terapia intensiva. Non è un fenomeno delle età estremamente avanzate, l'età media adesso credo che nel pomeriggio ci metteremo un attimo a ricalcolarla ma siamo con una range tra i 45, 50 e 65, 70 anni, quindi l'età media è quella di una popolazione adulta. Si va verso il periodo più freddo e soprattutto si va verso un maggior tempo speso in casa, quindi un maggior tempo speso in condizioni di potenziale ambiente chiuso, facilitante la diffusione, quindi crescono le affezioni respiratorie, c'è la scuola. Tutto questo significa che adesso non possiamo veramente più scherzare, cioè se vogliamo mitigare il diffondersi di questa nuova puntata epidemica, se vogliamo far sì che le risorse che questa regione ha preparato saggiamente e celermente per far fronte al bisogno non siano soverchiate dal numero dei casi, occorre la responsabilità di ognuno, perché quello che abbiamo sempre detto rimane ancora più vero oggi. Noi dobbiamo assolutamente evitare un ulteriore diffondersi del contagio, perché nei termini in cui siamo adesso la nostra organizzazione strutturale ce la può fare. Se dovesse salire a dismisura la diffusione delle forme asintomatiche non potremmo avere comunque un'adeguata gestione delle forme asintomatiche, quindi questa è una cosa che ognuno di noi deve sentire come il suo compito, non solo il nostro. Adesso la politica regionale caossa l'Aquila per la seduta del Consiglio che sarebbe dovuta iniziare alle ore 12 ma che al momento non è ancora cominciata. Nelle prossime ore, nei prossimi minuti la Lega potrebbe chiedere la testa dell'assessore Mauro Febbo dopo quello che è accaduto nelle scorse elezioni amministrative, in particolare a Chieti. Nel frattempo è confusione anche per quanto riguarda il programma della giornata e le commissioni, in particolare in quella bilancio e il percorso viene definito lungo quello che riguarda la delibera per i fondi per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro. Allora vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Mattinata a dir poco tesa all'Aquila dove si è svolto in maniera telematica in linea col nuovo DPCM il Consiglio regionale che era stato rinviato dopo la positività al Covid di un collaboratore del gruppo parlamentare della Lega. L'emergenza sanitaria però non rimanda le tensioni all'interno della maggioranza. Alle 10 di questa mattina, infatti, proprio in concomitanza alle commissioni regionali, si è riunito il coordinamento politico del Carroccio. Dobbiamo discutere delle leggi per l'Abruzzo, ha detto Luigi Deramo, ma è possibile che presto la Lega chieda al Presidente Marsilio di estromettere l'assessore Mauro Febbo dalla Giunta. E questo, come il regolamento dei conti, inseguito alle sconfitte delle amministrative di Chieti e Avezzano, dove l'assessore si era schierato contro i candidati salviniani. All'attacco la pentastellata Sara Marcozzi, che parla di atteggiamento vergognoso e irresponsabile, accusando la maggioranza di anteporre gli interessi di partito al lavoro urgente. Tre corridoi, fa sapere la capogruppo del Movimento 5 Stelle, si vocifera di un ricatto della Lega in attesa della rimozione dal ruolo di assessore del traditore Febbo. Insomma, l'Abruzzo, conclude la Marcozzi, è paralizzato per i giochi di poltrone. Non dello stesso avviso il leghista Simone Angelosante, che celebra l'approvazione dell'approvedimento europeo. È stato approvato il provvedimento europeo, che è lo strumento che la Regione Abruzzo svolge nella fase ascendente e nella fase discendente delle leggi europee. La maggioranza ha votato compattamente. Al di là delle polemiche che ci sono state, c'è stato semplicemente un rinvio di un'ora, doveva iniziare alle 10 la Commissione e invece è iniziata alle 11. Non mi sembra un grande problema. La seduta del Consiglio è iniziata in ritardo e l'ordine del giorno è molto fitto. La variazione del bilancio sul ritiro del Napoli Calcio a Castelli Sangro in Cagliata e il caos che in questo momento sta imperando nel capoluogo rischia di far slittare il programma dei lavori. Intanto alcuni consiglieri di opposizione si lamentano anche della modalità da remoto della seduta, secondo cui sarebbe utile a restringere le loro prerogative. Adesso andiamo in provincia di Teramo a riconnettere il territorio per contrastare gli effetti negativi del Covid e la volontà della provincia che ha presentato una task force di esperti che affiancherà l'ente nell'attività di progettazione strategica su investimenti infrastrutturali, su economia e su turismo. L'obiettivo è quello di arrivare a mettere in campo dei progetti competitivi per attrarre le risorse che arriveranno dall'Europa e dal Next Generation EU, il Recovery Fund per meglio dire, e dalla progettazione europea 2021-2027 con la struttura nominata dalla provincia che sarà a disposizione anche degli enti locali e delle parti sociali. Vediamo il servizio. Oggi parte un percorso nuovo, un percorso di sviluppo del territorio della provincia di Teramo, nasce da un indirizzo politico importante del Presidente della provincia, di mettere al centro il territorio con tutti i lettori fondamentali al fine quindi di ricostruire percorsi che sappiano cogliere tutte le potenzialità, gli strumenti di finanziamento in questo momento storico così importante e particolare. L'esercizio logico quale sarà? Sarà quello quindi di, oltre al coinvolgimento, quindi fare un'operazione di multilevel governance, ma ricostruire un percorso di sviluppo che tenga conto degli ambiti prioritari, di quelli che sono quindi le caratterizzazioni del territorio e ricongiungere il tutto all'interno quindi degli strumenti di finanziamento, del potenziale della nuova programmazione e di tutto quando in questo momento è programmato per lo sviluppo dei territori. Una sfida importante che richiede un esercizio progettuale, nuovo, innovativo e che richiede coraggio e che richiede impegno, ma che sicuramente il territorio saprà cogliere. È importante per la provincia in questo momento mettere insieme tutte le istituzioni, i comuni, gli enti sovracomunali, ma anche le personalità di spicco che provengono da questo territorio, che hanno ruoli e che hanno anche capacità di fare progettazione. Il Covid-19 ha consentito di avere la possibilità di ripensare il territorio. Da una parte certamente ci si sta concentrando molto sulla sanità e la salute, ma dobbiamo capire che il territorio ha bisogno anche di nuove economie, di nuovi progetti, di digitale, di smart city, ma anche di capacità di raccogliere fondi europei e di portarli sul territorio. Questa cabina di regia fatta di professionisti servirà a questo, raccogliere i migliori progetti e trovare le risorse per realizzarli. È importante assolutamente creare una rete infrastrutturale in provincia di Teramo, sia hard o soft, cioè materiale o immateriale, nel senso strade e autostrade, piuttosto che internet, fibra e 5G. Dobbiamo connettere i territori e ogni territorio ci indicherà sicuramente quali modelli di sviluppo potremmo far insistere sulle nuove infrastrutture. Questa è l'idea di Massima. Come ho già detto, ci sono tutta una serie di progetti e ogni progetto deve iniziare con l'ascolto, l'ascolto dei territori. La provincia di Teramo farà da catalizzatore di tutte quante queste idee e appena i fondi saranno disponibili li metteremo a terra. L'ordine dei giornalisti d'Abruzzo insorge contro la gestione da parte della regione dei finanziamenti statali destinati a formazione e comunicazione per la campagna antinfluenzale. Il presidente dell'ordine Stefano Pallotta spiega che la totalità quasi della somma di 600 mila euro sarà distribuita ai medici di base, mentre agli organi di informazione sarà riservata solo una parte residuale. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici-Castelli. La regione Abruzzo riceve dal governo 600 mila euro da destinare alla formazione dei medici di base e alla campagna di comunicazione sulla vaccinazione antinfluenzale. Peccato che l'ente regionale abbia deciso di destinare la quasi totalità del finanziamento alla formazione lasciando solo una somma residua di 50 mila euro per la comunicazione istituzionale. Insorge l'ordine dei giornalisti che reputa la scelta lessiva per l'intero settore e ricorda come gli organi di informazione, soprattutto in questi mesi di emergenza, abbiano svolto e svolgano un ruolo coraggioso e autorevole. A fronte di uno stanziamento di 650 mila euro ai mezzi di informazione che dovrebbero sollecitare le persone a vaccinarsi proprio per evitare di confondere l'epidemia Covid con i sintomi influenzali che sono tipici della stagione, soltanto 50 mila euro sono stati destinati ai mezzi di informazione. Questo inserito in un contesto più ampio di sottovalutazione dell'importanza della comunicazione istituzionale descrive un quadro, disegna un quadro assolutamente deprimente e allora io credo che le istituzioni, la regione debba fare uno sforzo in più quando riceve da parte dei fondi statali per questo tipo di interventi non dovrebbe sottrarre fondi alla comunicazione istituzionale, ma dovrebbe invece incentivarla questa cosa, perché svolgiamo un ruolo fondamentale e lo abbiamo dimostrato durante il periodo dell'epidemia, che il nostro ruolo è un ruolo centrale perché si batte contro le false informazioni, perché si batte contro la disinformazione, perché queste cose se passano sono ancora più pericolose della pandemia e allora io credo che da parte delle istituzioni, ripeto, c'è bisogno non solo di destinare fondi, questi fondi finalizzati alla comunicazione, ai mezzi di informazione abruzzesi, ma vada fatto addirittura un passo ulteriore, che è quello di approvare una legge regionale sull'editoria che quasi ormai tutte le regioni hanno e che rappresenta un elemento importante per la vita democratica e per la conoscenza che le persone devono avere, una conoscenza consapevole dei problemi e dei fatti. Quindi al di là di questa vicenda io credo che si inserisca in un discorso più ampio, più generale, su cui noi non possiamo assolutamente come categoria ormai indugiare oltre, dobbiamo assolutamente portare, mettere di fronte le istituzioni regionali, ma anche le amministrazioni comunali di fronte a queste responsabilità, che sono responsabilità molto grosse. Angiolo Pellegrini oggi a Pescara ha presentato presso l'alberghiero De Cecco il suo libro Noi gli uomini di Falcone, ha inaugurato anche il monumento, il sorriso, posto nel cortile dell'Ipsar. Allora vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Importante non dimenticare un'altra importante testimonianza, professoressa, oggi per quanto riguarda la lotta alla mafia, la lotta alle mafie. C'è questo monumento che sta girando il nostro paese e che per due giorni sarà qui al De Cecco di Pescara. E per noi è un grandissimo onore che grazie al premio nazionale Paolo Borsellino si possa iniziare una serie di eventi legati alla legalità e al premio con una personalità straordinaria che è il generale Angiolo Pellegrini. È molto importante anche che si sia avuta l'opportunità di avere qui nel nostro istituto per due giorni un monumento straordinario chiamato il sorriso. È una pietra della maiella su cui sono intagliati i volti di Falcone e Borsellino. È un grande messaggio, un messaggio di forza, di resistenza, di determinazione, di voglia, di lotta alle mafie ma anche alle logiche mafiose e quindi di costruzione di un bel futuro più giusto per i nostri studenti. Generale, lei ha dedicato tutta la sua vita alla lotta alle mafie. Il messaggio da lanciare a questi ragazzi? Ragazzi, la mafia esiste, i mafiosti ancora ci sono, sta solamente a voi dare la speranza a coloro che hanno combattuto e a coloro che sono rimaste vittime della mafia che l'Italia può cambiare. Voi dovete dare la speranza in un futuro migliore, voi dovete essere quelle gambe su cui camminano le idee di Falcone, di Borsellino e di chi ha fatto indagini, anche le mie idee, voi dovete essere voi. Io comincio ad essere un po' stanco, vi dico la verità, anche se ho raggiunto una certa età, però continuo a combattere. Voi che siete giovanissimi combattete e vedrete che la mafia può essere sconfitta. È stato compiuto anche quest'anno il cammino di San Tommaso, 300 chilometri da Roma ad Ortona dove sono conservate le spoglie dell'Apostolo Tommaso. Scopriamo di più su questa iniziativa e su chi era il santo custodito in Abruzzo nel servizio. A piedi da Roma a Ortona è una vera e propria impresa quella del cammino di San Tommaso, un itinerario praticato fin dal XIII secolo che unisce Piazza San Pietro in Vaticano alla Basilica di Ortona dove sono conservati i resti di Tommaso Apostolo o almeno quelli ritenuti autentici dalla Chiesa Cattolica. Due sportivi, Alex Tucci e Roberto Martini hanno attraversato passo dopo passo il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, il Parco Naturale dei Monti Simbruini, il Parco Naturale Sirente Velino, Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella facendo tappa agli eremi e alle chiese lungo il cammino. Un po' stanchini ma penso che sia normale. Adesso mangiamo, ci riposiamo e ripartiamo. Dai, forza! Circa 300 chilometri percorsi in appena due giorni e mezzo attraversando l'Italia orizzontalmente. Lì in fondo c'è il mare e lì da qualche parte c'è Ortona e questa è una figata. Finalmente, finalmente si vede il mare. Tommaso è stato uno dei 12 apostoli di Gesù ed è uno dei responsabili dell'evangelizzazione al di fuori dei confini dell'impero romano. Si recoprì prima in Siria, poi in Cina e in India, dove morì assassinato. Secondo la versione ufficiale, i resti dell'apostolo furono spostati a Chios, in Grecia, a seguito di una rivolta anticristiana. Nel 1258 il navigatore ortonese, Leone Acciaiuoli, trafugò le ossa e le portò in Abruzzo, dove sono conservate, tutt'oggi, in un sarcofago d'oro massiccio. Ha resistito al saccheggio saraceno del 1566 e alla devastazione della seconda guerra mondiale nel 43. Tommaso è anche quello del proverbiale se non vedo non credo, poiché aveva dubitato della risurrezione di Gesù. L'incredulità dell'apostolo così è divenuta simbolo di razionalità e autodeterminazione contro la fede cieca, tale da poter eleggere il santo appatrono della cultura odierna, contrassegnata dal secolarismo e dal suo relativismo. Negli anni 2000 però il se non vedo non credo è lo slogan adottato anche da complottisti e negazionisti vari. Andiamo avanti ora con la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B dal Pescara, turno infrasettimanale nel campionato con il Delfino che dopo il rovescio interno contro l'Empoli sabato va a fare visita al Venezia con tanti problemi di formazione specie nel reparto avanzato. Infatti dovrà fare a meno di setterra Senzio e Maestro ma il tecnico non cambia l'assetto in avanti. Consueto 4-3-2-1 con Grillo tra i pali, Bocchetti confermato in difesa insieme a Drudi con Balsano e Masciangelo sui due lati di difesa. In mediana ovviamente sarà Valdifiori a di gioco con Memushai e Busellato interni di centrocampo. Davanti spazio a Riccardi e Galano alle spalle di Bocic. Il giovane numero 7 infatti visti tanti forfè giocherebbe come punta centrale anche se non ha quelle caratteristiche ma l'emergenza chiaramente impone un sacrificio. In casa Venezia è recuperato Malè con Aramu che agirà alle spalle di Capello e forte. Fischio di inizio alle ore 21 allo stadio Penso arbitra Maggioni di Lecco e chiaramente l'invito è a seguire diretta stadio questa sera per avere tutte le notizie in tempo reale sulla partita fra Venezia e Pescara. Andiamo in casa proprio del Venezia. Il tecnico Zanetti si aspetta una battaglia nella sfida con i biancazzurri. Non ci saranno molti cambiamenti rispetto alla partita con la Cremonese come ammette lo stesso allenatore nell'intervista che ascoltiamo. La squadra sta abbastanza bene a parte tutto Gordò che ha un fastidio alla schiena e quindi dobbiamo valutarlo. In cambio recuperiamo Malè, recuperiamo Viarcaso e cercheremo di recuperare Feliccioli almeno per la panchina. Ne portiamo 26 anche se siamo all'incuore panchina ne possa portare 23. Però in questa partita voglio portare tutto il gruppo di disponibili perché la partita secondo noi è una partita importantissima per noi. Vogliamo stare uniti in questo momento e cercare di aiutarci uno con l'altro per portare a casa la vittoria. Prevedo una battaglia come sempre, una partita difficile contro una squadra forte che ha dei valori, che è sicuramente ferita perché viene da una sconfitta immeritata, perché ha giocato una buona partita e quindi vorrà portare a casa dei punti e noi dobbiamo cercare in casa di vincere le nostre partite. Come ho detto tante volte i campionati secondo me si fanno in casa e penso per noi deve diventare un fortino. Abbiamo già perso una partita, noi l'abbiamo vinta e secondo me è già sufficiente così per quello che riguarda le sconfitte. Intanto conosco bene il mister, è sicuramente una squadra che gioca a calcio, che comunque il mister allenatore che gli piace il bel gioco, il gioco di un certo tipo, è una squadra d'utile che può giocare in vari moduli e ha dei giocatori tecnici, delle individualità importanti che può mettere in difficoltà chiunque, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Per vincere questa partita dobbiamo essere al 100% e se non lo siamo fisicamente lo dobbiamo essere dal punto di vista mentale. Sicuramente rientreranno due o tre giocatori che ho risparmiato in vista di queste due partite, che comunque giocando martedì e sabato abbiamo possibilità di recuperare, però giocando invece sabato e martedì oggi si rischiava di aver fuori dei giocatori che comunque ritengo importanti. Chi ha giocato al loro posto comunque mi ha risposto bene e questa è una cosa importante. Comunque recuperiamo dei giocatori, qualcosa sicuramente cambieremo, ma non troppa roba. turno di domani anche nel campionato di Serie C con il Teramo. che andrà a fare visita al Potenza. Pacinon recupera Bombaggi che non sarà convocato così come Minelli e Gerbi. Soprano ancora in dubbio mentre rischia di saltare il match LASIC per un problema fisico accusato dopo la gara con la Casertana. Rientra dalla squalifica di Acchite che se l'ASIC... avanti... di Francesco. Domani in campo alle... Tecnico Paci questa mattina alla vigilia del match. Per noi è un'opportunità domani perché... perché... per vedere un po' la maturità della squadra. Non tanto dal punto di vista tattico ma dal punto di vista mentale. Nella preparazione alla partita con così poco tempo. Se la squadra sarà matura in questi due giorni pochissimi per preparare la partita sarà riuscita a ricaricare le pile emotive per giocare per giocare. Stamattina ho detto alla squadra. Noi giocare la partita la giochiamo. Però noi giochiamo per vincere e quindi quando giochi per vincere l'emotività, il fuoco deve essere molto alto e quindi la maturità sta proprio lì nel riuscire a preparare bene la partita. Una partita in quanto tale ha le sue difficoltà. Vincere è sempre difficile. Soprattutto contro una squadra che viene da due sconfitte e gioca in casa. Soprattutto contro una squadra che ha un giorno e mezzo in più di recupero rispetto a noi. E quindi la partita sarà complicata. Però è anche una bella partita perché testerà il nostro grado di maturità. È una bella partita perché per noi è un'opportunità di far punti, è un'opportunità di migliorare e siamo felici di fare questa partita. Anche se c'è stato poco tempo per prepararla, ma i ragazzi tatticamente sono pronti. La squadra è pronta, sta bene. Quindi quello che conta è la competizione, riuscire a saper competere domani dalla prima palla. Ma sono convinto che ci siamo. L'ASIC non sta benissimo. È uscito l'altra sera per un fastidio, ma non ha niente di grave. Adesso oggi pomeriggio lo valutiamo. Non so se sarà della partita o no. Comunque abbiamo delle alternative in quel ruolo. La filosofia è quella, l'approccio è quello. Si va in campo per giocare e per vincere. Che è diverso da andare in campo per vincere? Noi non andiamo in campo per vincere perché la vittoria a volte può essere anche pesante, anche una pressione molto forte. Andare in campo per giocare e per vincere, quello deve essere la nostra gara. Perché noi fondamentalmente è il nostro lavoro giocare per vincere, non è giocare. Le partite si giocano. Giocare per vincere sì. Poi non è detto che le vinceremo. Perché il risultato non è mai il nostro controllo. Quindi si può vincere e si può perdere. Giocare per vincere è tutta un'altra roba. E lì viene fuori la competizione, lì viene fuori il fuoco, lì viene fuori la giusta comunicazione che devono avere i ragazzi, propositiva. Lì viene fuori lo spirito di squadra, lì viene fuori tutto un mondo. Giocare per vincere è un'altra roba di giocare la partita perché dobbiamo giocare. Allora, adesso andiamo in Serie D. Il centrocampista della Vastese, Michele Di Prisco, ospite domenica della nostra trasmissione L'Abruzzo del Pallone, ha parlato del successo dei Biancorossi nel derby col Pineto, vinto grazie ad un suo gol e di come è arrivato in estate a scegliere il sodalizio aragonese. Sentiamo. Primo tempo molto equilibrato, ci siamo studiati a vicenda le due squadre, loro una squadra molto organizzata, comunque hanno una rosa ampia e soprattutto di valore, di conseguenza abbiamo dovuto preparare la partita su ogni minimo dettaglio e abbiamo cercato di fare tutto ciò che c'è questo ministero. Alla fine siamo stati fortunati a portare a casa i risultati perché queste partite alla fine si sbloccano con gli episodi. esattamente come una settimana fa un episodio vi aveva condannato a fuggi. Esatto, la classica quando fai la partita tutto bene eccetera e poi alla fine magari prendi gol e c'è il ramarico per aver fatto praticamente una buonissima partita però essere ritornati a casa a mani chi approda qui a basto sa che gli obiettivi della società innanzitutto sono sempre alti e puntano comunque ai vettici della classifica e quindi quando fai qui devi sapere che ogni domenica devi scendere in campo e devi sudare la maglia e devi cercare di dare il massimo sempre e lottare su ogni pallone. A me ha chiamato il direttore Nicolato Ottavio, lui mi conosceva già in passato, avevamo avuto contatti che mi aveva chiamato quando faceva il direttore sportivo all'Agnonese e quest'anno mi ha chiamato e io sinceramente non ho esitato a filmare per una piazza così importante. Sicuramente è un girone nuovo, avevo voglia anche di confrontarmi in un altro girone, quello del centro. L'anno scorso sono stato a Milano, metà campionato, poi prima della chiusura del Covid ovviamente abbiamo fatto sei partite solamente, però avevo voglia di confrontarmi anche in quest'altro campionato e quindi ho accettato subito la proposta del direttore del presidente della vastesa. Le prossime tre penso che io preferisco sempre pensare una partita alla volta, quindi ora ci godiamo questa serata, insomma siamo felici, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un'ottima prestazione. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento alle ore 19, vi ricordo attorno alle 20.30 anche Diretta Stadio per seguire la partita di Serie B fra Venezia e Pescara. È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.